Musica Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi Temperature gradevole Niente nuvole Sono una leggera brezza che anzi siamo certi I giocatori in campo apprezzeranno Insomma davvero una splendida serata Un clima perfetto per giocare a calcio Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune I tifosi festanti e gioiosi infatti Sono arrivati in massa L'Emirates situato nella zona nord di Londra Con i suoi oltre 60.000 posti a sedere E' il secondo stadio più grande della massima serie inglese La formazione della Lazio Luca secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Robert Lewandowski In una partita come quella di oggi sarà determinante la prestazione dell'attaccante Per il risultato della squadra Certo lui dà il meglio quando viene servito in profondità Con palloni filtranti Se i compagni sapranno rifornirlo in questo modo Potrebbe davvero essere l'uomo partita E' difficile darti torto Queste sono le partite in cui si esalta Grazie a tutti Grazie a tutti Via la gara Patrick Cataldi sul pallone Messi difende con tutto il peso del corpo e di sottrae il controllo del pallone Patrick Lazzari Messi Ecco Cataldi Milinkovic-Savic Messi Luis Alberto Ecco una casola per Felipe Anderson Può provare Di nuovo lui Pungo strepitoso Che è bastato un attimo per impadronirsi della partita I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite Ha una marcia in più Sia tecnicamente che mentalmente E l'ha appena dimostrato E non poteva mancare un'occasione del genere Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero Con le sue doti balistiche Deve essere marcato stretto Altrimenti vedi Fabio Sono guai Hanno trovato subito il gol del vantaggio E adesso avranno più spazi Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Milinkovic-Savic Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro Palla recuperata Palla filtrante per me Circa il tiro Bel pallone filtrante Non è riuscito però a concretizzare Se ben eseguito Un passaggio in profondità può essere letale Peccato che qui la conclusione Non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto Impossibile tirare in queste condizioni Lo hanno intrappolato Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa La Lazio Decisamente preso le redini della partita E conduce sia dal punto di vista del possesso palla Che da quello del risultato Prova il passaggio lungo La giocata però non gli riesce Messi Mette il turbo Vede lo scatto e cerca la profondità Pallone in me Si butta Ed evita il gol E' stato splendido l'intervento del portiere Sembrava aver sorpreso il portiere Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi Va con il passaggio corto Lazzari Prova la conclusione in porta Non perdono tempo Spingono subito verso la metà capa avversaria Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede Nasconde il pallone all'avversario con una magia Milinkovic Savic Radu Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale Si è fatto trovare pronto Reattivo Ottima scelta di tempo Riceve in ottima posizione Gli avversari possono tirare un cospiro di sollievo Visto che hanno buttato al vento il contropiede favorevolissimo Mi pare che vogliono dominare il possesso di palla Si Fabio esattamente Giocano più stretti Provano a servire sempre l'uomo libero E mantengono il possesso con una fitta rete di passaggi Non si fanno neanche problemi a darle indietro se serve Il punto è far muovere la difesa avversaria per poi trovare gli spazi giusti Messi Opportunità di ripartire Dermic Ecco Lewandowski È in ottima posizione Grande risposta di Ivakovic Si esprime in un buon intervento Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato Si sbagliava Fabio Tocca con la testa Buon ruote Era doppio vantaggio per nuovo Era al posto giusto, al momento giusto La difesa ha pasticciato e lui gli ha puniti No, è palazzo Ha segnato il trentottesimo minuto Numero sette 2-0 dunque Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità Prova a prolungare Difesa impeccabile qui Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere C'è il tiro Beffa l'estremo difensore Un gol alla fine del primo tempo è l'ideale per andare sereni negli spogliatori Passo agile e inarrestabile Tempismo perfetto e conclusione vincente Magnifico Non l'ha passata a nessuno E a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo Qui merita tutti gli applausi Ha segnato al quarantunesimo minuto Numero 18 Si ricomincia con un solo gol di scatto Già pregustano la rimonta Chissà se ce la faranno Sarà comunque rimessa in gioco con le mani Marusic Cataldi Vinicovic Decide di sfruttare la fascia Cerca un'azione veloce La gioca a sinistra Alza la palla in profondità verso un compagno Errore qui pallone sprecato Primo tempo davvero interessante Tutte e due le squadre si sono date molto da fare Un primo tempo di grande calcio Con attacchi vivaci E un solo gol di scatto tra le due formazioni Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico Nonostante il gol che separa le due squadre Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena 2 a 1 Gran bel primo tempo Tre gol Tante emozioni E sicuramente la ripresa non deluderà E iniziano i secondi 45 minuti Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria La loro azione si conclude qui Allarga il gioco a destra Prova a darla profonda nello spazio Sceglie di andare per via verticale Si è fatto trovare pronto Scattava di te Un grande intervento del portiere La gioca sulla destra Messi Milenkovi Savic Lewandowski Ci prova con un pallone profondo Occhio alla conclusione Grande occasione Mappalo Si libera della palla ed evita complicazioni Passaggio sulla destra Pallone interessante In verticale E questo è un passaggio quantomeno discutibile Colpisce il pallone Goal Non sbaglia Una bella conclusione Non c'è che dire Ma non posso che immedesimarmi nel portiere Secondo me non è riuscito a vederla partire E con questo segna una doppietta E con questo segna una doppietta Davvero una grande partita E con questo segna una doppietta Davvero una grande partita Saranno sfiancati Con questa marcatura personalizzata Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi Capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti Devi stare incollato a questi elementi Non puoi permetterti una sola distrazione Cataldi Lui Salberto E non c'è modo di aggirare il difensore Provano a partire in velocità Fa valere il suo fisico E recupera un pallone prezioso Gran prova di forza Palla recuperata Vede lo scatto E cerca la profondità Dermic E si Trova la rete Sono riusciti a rientrare in partita Vedremo se troveranno il pareggio Aggressività e verticalizzazione Può sembrare semplice Ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti È sintomo di grande condizione fisica E preparazione tattica E adesso ovviamente Nistacco si riduce Questo gol riaccende le loro speranze Ora faranno tutto il possibile per pareggiare Lazzari Sapeva già tutto e anticipa l'avversario Passaggio forse era un po' telefonato Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio Messi Lazzari Passaggio profondo per Milinkovic-Savic La Lazio Calcio di punizione Calcio di punizione dalla distanza degli specialisti Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante Messi Bellissima esecuzione Per il gran gol Questo è un po' stupendo 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 La traiettoria strepitosa Tecnicamente perfetto Non c'è che dire Ha messo la palla esattamente dove volera No per Lazio Ha segnato al settantaquattresimo minuto Numero 30 Messi Ultimi controlli a bordo campo Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia Dermic esce dal campo tra gli applausi Ha dato tutto e ha messo la sua firma sulla partita Il divario tra le squadre si allarga a due reti Due gol di vantaggio sono tanti Ma attenzione Nel calcio può succedere di tutto Oggi non gli danno tregua Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi E cercano di raddoppiare costantemente la marcatura Filippo Anderson C'è il cross E il portiere fa suo questo pallone in mezzo Ecco un'occasione di contropiede Sospiro di sollievo sugli spalti E sono sicuro anche in panchina Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa Un intervento fondamentale Erano in inferiorità numerica Doveva rischiare il tutto per tutto Ma ce l'ha fatta Orsic Prova a darla profonda nello spazio Fa avanzare l'azione con il lancio lungo 5 minuti ancora sul cronometro Prova con la palla lunga Ottima scelta di tempo fa sfumare l'azione offensiva Lewandowski Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo Petkovic Petkovic va a raccogliere il passaggio Il cartellano indica due minuti di recupero Orsic Lo sposta di peso E gliela porta via La difesa lo chiude senza tanti complimenti E riconquista la palla Ora Savic Il direttore di gara Fisca tre volte E' finita Una vittoria convincente Una prestazione fantastica Da parte di tutta la squadra Oggi è andato tutto per il verso giusto Grazie